Benvenuti ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale Siamo oggi tornati nel mio video vlog Oppure challenge, ma che challenge Ok, siamo in un video normale Niente gameplay stavolta perché vorrei iniziare alcuni giochi Però, prima faccio alcuni aggiornamenti per il canale E poi vi farò vedere alcune cose che ci sono qui Ovviamente questo qui è il bonus perché c'è questa tradizione qui Che mettono i tappeti sotto sopra Mi viene voglia di sdraiarmi lì, solo che non sono Spider-Man E iniziamo subito I primi aggiornamenti Allora I miei mi vogliono comprare l'Xbox E quindi vorrei iniziare, quando uscirà Vorrei iniziare FF16 oppure GTA V Oppure tutte e due Potrebbe essere anche la stessa cosa Oppure anche Call of Duty Black Ops 3 Black Ops 2 O Black Ops O Black Ops normale Poi i giochi Sì, vabbè, i giochi per la Wii No, perché la Wii fa cagare Sennò c'ho Asphalt 7 Sennò c'ho anche Aspetta, 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 aspetta Sì, c'ho Call of Duty Sennò Minecraft Che lo prenderò, ve lo dico Per l'Xbox Così sono i tre giochi che vorrei fare FIFA 16 GTA V E magari anche Call of Duty O Minecraft E ditemi se anche Cazzo Se anche voi volete questi giochi sul canale Magari uno vuole Minecraft L'altro vuole FIFA 16 Porterò alcuni video al giorno Se potrò Perché non posso fare come altri YouTuber Che non dormo la notte Non dormo mai E diventerò uno zombie Già che faccio pochi video E mi vorrei anch'io Succidare Però Ho pochissimo tempo Perché magari devo andare Da una parte Magari devo andare fuori Accompagnare il cane A farlo cagare E a proposito di cani Il mio vero lo do in vendita Il mio lo do in vendita E Aspetta E per chi lo vorrebbe 1000 euro Scherzo Il mio cane Non lo darei mai E adesso che abbiamo finito I miei Aggiornamenti Per fortuna E Posso far vedere Alcune cose Che ci saranno Nel mio canale Per questo mese Mese Fino All'8 agosto No si All'8 agosto All'8 settembre Allora Questa qui sarà La mia Inquadratura Che cavolo La mia inquadratura Sarà tipo questa Tipo questa Tipo questa sarà Che penso So solo che devo mettere Il robo Vabbè Per questa stanza Abbiamo finito E si domani Vorrei fare tipo una challenge O la sbacca challenge Oppure La soccer Cioè la soccer challenge Che sarebbe La football challenge La football challenge Oppure Draw my herd Draw my herd Draw my house Oppure una serie su paint Così Potete anche voi decidere Perché Non sono io che voglio decidere Perché se no Se decido io Vi annoio subito Adesso Andiamo a vedere La cosa più importante Del mio Video Del mio Videozzo Eccolo qui Vieni 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 bello Vieni bello Vieni 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 Calmo 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 T'ho detto Questo qui è il mio cane È il mio cane Saluto a tutti Vabbè Non è molto amichevole Oh mi fai passare? Segudo Dammi la zampa Non mi posso neanche grattare il naso Fatto Sì però mi lasci passare Per favore Oddio Vai bello Vai bello Vai bello Questa è la mia gatta Questa è la mia gatta Quello sono 12.000 ettari di terreno Dove è andato il mio cane? Dove è andato il mio cane? Non dirmi che è scappato Vieni Vieni qua Che cazzo è questo appartamento? Vabbè Comunque Nella soccer challenge Vedrete tipo questa inquadratura Oppure dall'alto Così Però vedrete O così Aspettata Arga Madonna Oppure Così Aspettata Così Ovviamente chiudiamo Quelle cose Queste cose qua E poi faremo Tipo Ti importa Non gioco da solo Ovviamente Una persona normale Non giocherebbe mai da solo E il mio cane è andato da qualche parte Vabbè ragazzi Il vlog è quasi finito Bene Facciamo un altro sketch E ragazzi Se anche voi pensate Che questi vlog Sono un po' noiosi E sono troppo lunghi O magari Sono troppo corti Stessa cosa Magari Ditemi se vi piacciono Questi vlog Magari Volete che elimini I vlog dal canale Ditemi Quale gioco Volete Quale gameplay Che tipo di gameplay Volete Nel mio canale Io E la mia torta di mele Vi salutiamo Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Facebook Instagram Tutto in descrizione E tchau